Copernicus, è un cratere giovane, se paragonato all'età della Luna infatti ha soltanto 810 milioni di anni e da esso assume il nome l'era copernicana, iniziata 1200 milioni di anni fa e che continua tuttora. Esso rappresenta il cratere da impatto perfetto, infatti con la sua forma circolare, i suoi terrazzamenti e il suo picco centrale è davvero molto vistoso. Da Copernicus si dipartono anche un sistema di raggi appariscenti. Il suo diametro è di 93 chilometri e le sue creste si alzano dal fondo per 3760 metri. È curioso notare come la parte nord del fondo del cratere è praticamente piatta, mentre la parte sud è davvero tormentata. Il picco centrale è costituito da tre gruppi di rilievi creatisi successivamente all'impatto. Per apprezzare appieno questo cratere bisogna seguirlo dall'alba al tramonto locale. Molto prima che il terminatore giunga in prossimità delle pareti del cratere il sole illuminera i picchi più alti dello stesso. E man mano che il giorno avanza sarà bellissimo osservare come l'intera circonferenza del cratere verrà illuminata ed il fondo invece rimarrà ancora in oscurità. Aspettando ancora il sole che si alza, anche i picchi interni verranno illuminati e man mano la luce invaderà il fondo del cratere. È in questa fase che il cratere si arricchisce di tantissimi dettagli, e sarà appassionante scorgere con il nostro occhio i diversi particolari.